Riparte il progetto Matilda mi racconti una storia? Letture rivolte ai bambini da 0 a 6 anni e ai loro genitori per ascoltare e leggere insieme. Appuntamento ogni venerdì dalle 17 alle 18 e 30 allo spazio morbido della Biblioteca Civica di Pordenone e il martedì nelle biblioteche di quartiere. La direttrice della Biblioteca di Pordenone, Ophelia Tassan-Caser. Il progetto è molto importante perché noi diamo molta importanza alla lettura delle fiabe, delle storie, dei racconti ai bambini. La fiaba parla il linguaggio del bambino e il genitore, leggendo ad alta voce, ha molteplici possibilità di comunicare con il bambino. L'iniziativa è coordinata dalla professoressa Daniela Dose. Questo progetto Matilda mi racconti una storia, nasce nel 1999, oggi si avvale di circa 20 lettrici volontarie e dedicano il loro tempo a livello proprio di volontariato, sempre però approfondendo e preparandosi perché credono nella gratuità, quindi anche nella possibilità proprio di offrire un gesto, un servizio così gratuito, quindi proprio d'amore anche verso i bambini e i loro genitori. Ulteriori informazioni e calendario sono disponibili nel sito comune.pordenone.it. slash biblioteca